Sindaco, lei ha detto che non sono il burattino di nessuno, tantomeno prigioniero. Non lo sono mai stato, mai lo sarò. Io non mi faccio piegare dal ricatto di qualcuno che dice o è così oppure lo risolvo io il problema, oppure tutti a casa perché me ne vado io, perché nessuno si può permettere di rivolgersi a me con l'aria minacciosa, ricattatoria che ha usato qualcuno. Fermo, amareggiato ma anche commosso, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha rassegnato oggi le sue dimissioni. Tutto questo in un giorno importante, si sarebbe infatti dovuto votare il bilancio, ma troppi malumori, una situazione difficile nella maggioranza che si trascina, i cinque dissidenti in particolare di Forza Italia che non hanno partecipato alla seduta odierna come i due dell'Udc, ma Di Primio stavolta batte i pugni e perentorio ha ritirato le delibere in consiglio, anche se forse dice i numeri c'erano, per non prendere in giro la città che ha perso così, ha detto 37 milioni di opere con un bilancio che ha avuto l'ok dei revisori dei conti. Oltre ai due consiglieri dell'Udc in polemica per l'Atari, cinque forzisti e ribelli avevano fatto sapere di non vedere accolti alcune loro richieste da parte del sindaco, l'assessore Carla Di Biase, nonostante la riconsegna delle deleghe ancora in giunta, e si parla del futuro in bilico dei 48 precari della Teat e Servizi dopo le dimissioni improvvise ad un mese dall'insediamento dell'amministratore unico. Di Primio risponde così. Ci sono delle richieste che noi abbiamo soddisfatto, alcune che non sono soddisfacibili e non c'è però possibilità di trattare con il ricatto. Siccome loro sono manovrati da qualcuno che dietro dice di comandarli, abbiamo lavorato per poter riportare quel bilancio in una condizione di normalità, oggi che abbiamo un bilancio normale con 37 milioni di lavori, qualcuno decide di non venire in Consiglio Comunale. Beh, scusatemi, se ci stanno da scrivere delle responsabilità, bando le chiacchiere, non iniziamo, ma noi ti abbiamo chiesto, non mi hanno chiesto niente, quello che mi hanno chiesto gli abbiamo dato e quello che abbiamo dato si poteva dare. Quindi queste sono le regole. Qui c'è una grave responsabilità della classe dirigente regionale. Teramo Docet, voglio dire, se non avete ancora compreso che dare spazio a chi fa i ricatti e fa le bande armate, poi porta a perdere le elezioni, vuol dire che non avete compreso una lezione abbastanza banale che dà la vita politica. Quindi io non credo che ci siano le condizioni in questo momento nemmeno per pensare ad un ritiro delle dimissioni. Voi sapete quanto mi costa. Io non parlo più con gente che non è il segretario di un partito o un consigliere comunale. sono stufo di avere incontri e dialoghi con chi non è né consigliere comunale né segretario di partito ma viene a fare alzar voce nelle riunioni.